Una palestra al servizio di una scuola che non c'è, fantasma l'uno, fantasma l'altro. Questa è una vergogna e questo è il motivo per cui noi come lista Siracusa protagonista chiediamo le dimissioni di questa amministrazione perché questa amministrazione è la figlia della precedente, perché gli assessori che fanno parte di questa amministrazione facevano parte anche della precedente perché questa amministrazione ha avuto già oltre otto mesi di tempo per dedicarsi di questa scuola. Quanto abbiamo speso per questa scuola? Negli ultimi anni per questa scuola abbiamo speso 1 milione e 50 mila euro. 1 milione e 50 mila euro significa che abbiamo speso 2 miliardi e 100 milioni delle vecchie lire, una somma importantissima. Tra l'altro 160 milioni sono fondi comunali, invece gli altri sono fondi statali e fondi regionali, non solo. Ma l'amministrazione comunale aveva il progetto per rendere tutta la struttura funzionale. Doveva fare solo la domanda perché gli aveva lasciato per fine i progetti e non hanno fatto nemmeno la domanda. Famoso, famigerata scuola di Via di Villortisi che è in stato di abbandono, come stiamo vedendo? Ma è in stato di assoluto abbandono. Intanto abbiamo visto il parco, questo parco dove non solo c'è amianto ma c'è rifiuti soliti urbani di qualsiasi natura. Credo che le persone l'abbiano utilizzato appunto per realizzare un luogo dove una discarica c'è l'aperto. Vorrei ricordare che abbiamo già fatto tutta la facciata, era stata rispristinata la facciata ma la facciata è stata abbandonata. Di conseguenza già il cemento, l'intonaco, la tonochina che hanno state realizzate e già si stanno distaccando. Vorrei fare notare questo bellissimo pino che abbiamo nella terrazza della struttura. Evidentemente l'amministrazione comunale crede nei giardini pensili e quindi ha pensato di far crescere questo pino nella terrazza in maniera tale che le radici della terrazza possono distruggere questi tipi. Per l'ascito testamentario va destinato a scuola e basta? L'ascito testamentario è destinato solo ai bambini e quindi questo spiega il motivo per il quale avevo fatto questo progetto di messa in sicurezza, è bellissimo questo frigorifero, la prima cosa che salta agli occhi. Ma questa è in questo stato da quando c'è prima l'amministrazione Carozio e adesso l'attuale amministrazione. Anche perché ricordo che io sono ritornato brevemente a fare l'assessore e avevamo fatto quindi le gare, avevamo impegnato tutte le risorse, c'erano stati anche un motivo, se ricordate lo scontro presente che c'era stato fra me e Vicentino, perché purtroppo questa scuola evidentemente non si vuole mettere in sicurezza, non si vuole riaprire al pubblico, forse qualcuno pensa di poterla anche vendere ai privati. Bene sappiano tutti che non può essere venduta assolutamente ai privati, è un lascito condizionato e quindi se qualcuno pensasse di vendere la sappia che la dobbiamo restituire agli eredi di Ortisi che fu l'uomo che ci donò questa struttura che evidentemente si rivolta nella tomba tutti i giorni a vedere questa situazione veramente ingresciosa e terribile. Grazie a tutti.